Lontani e vicini ci sono segni che inseguono le persone e Alessio Pracanica è un segno ad persona, imbottito di un certo stile di vita che lo costringe liberamente ad essere l'annostatore culturale delle olie, viste e riviste su un palco fra i più belli del mondo. Alessio, i viventi dell'antimafia, Grasso a Lipari e Gratteri a Milazzo, cosa hanno lasciato trasparire in un pezzo di Sicilia che mostra appetibilità mafiosa in un modo continuativo? Grasso purtroppo non sono potuto essere presente quando è venuto, Gratteri sì perché ero in prima persona come organizzatore e come intervistatore e lasciato trasparire in me personalmente ha trasmesso una certa amarezza perché per esempio rispetto all'anno scorso a Lipari quest'anno era molto più scortato, la scorta era più visibile, grande, imponente perché ha ricevuto nuove minacce e quando gli ho chiesto come mai saliva in macchina da solo, guidava da solo, lui mi ha risposto perché così almeno salto in aria solo io. Ne usciremo, io sono sicuro, diceva Giovanni Falcone che come tutte le cose la mafia ha un inizio e avrà una fine, io sono sicuro che ne usciremo però. Speriamo non col botto. Senti in questi libri che questi due personaggi continuano il primo Grasso per Gratteri penso che sia il primo libro, vero? No Gratteri ha scritto tanti, benissimo che continuano a sfornare, non lo sapevo, non ho la tua cultura. Come si sposa con la mafia nemica l'evento commerciale? Guarda, intanto quando si scrive un libro in Italia parlare di evento commerciale è una parola grossa e lo dico da scrittore perché tutte le statistiche dicono che il 50% degli italiani legge meno di un libro l'anno, quindi pensare che con i libri si possa guadagnare, fare i soldi e diventare ricchi è una pia illusione. Invece credo sia importante l'aspetto divulgativo perché si trasmettono le testimonianze, si raccontano delle storie, si mantiene viva l'attenzione su un problema che potrebbe essere dimenticato nelle fasi come questa in cui non ci sono gli attentati, non ci sono le stragi e si può avere l'illusione che la mafia non esista. Invece proprio in questi momenti quando non si spara vuol dire che la mafia è più forte, vuol dire che tutto è stato già deciso, la torta è stata spartita in ogni sua fetta e non c'è bisogno di sparare. Questi sono i momenti più pericolosi della mafia, non quando spara. Ecco, il silenzio peggio della Lopara vuol dire? Senza dubbio, le stragi, gli attentati, le sparatorie sono momenti di debolezza delle organizzazioni mafiose. Sono momenti di incertezza in cui per esempio bisogna stabilire chi comanda in una data zona o chi deve prendersi la parte maggiore di un determinato affare. Nei momenti in cui c'è silenzio e tranquillità vuol dire che tutto scorre liscio, tutto è stato oliato perfettamente. Certo, il tappo in bocca. Ascolta, c'è stato un passaggio, una pagina di qualche libro o qualche conversazione dove si è riuscito a tirar fuori il dente malato di queste storie scritte? Ma guarda, una bella riflessione che ha fatto Nicola Grapperi è stata sulla povertà dei territori mafiosi. Lui ha detto una frase importante, la mafia più potente del mondo, che in questo momento è l'Andrangheta, comanda la regione più povera d'Italia, che in questo momento è la Calabria. Quindi il mito che la mafia possa contribuire a un arricchimento, è un mito da affatare. La mafia è una cosa che impoverisce, non è una cosa che arricchisce. Chiaramente, se lo dice Gratteri, che anche Calabrese, fra le altre cose, della zona più povera, certamente, chiaro, è quasi a contatto con Messina, giusto? Una cosettina, Alessio, e c'è stato qualche sguardo verso le isole Olie, verso sta storia degli immobili sequestrati a Santa Marina Salina per riciclaggio delle 23 ville di Vulcanello e Lentie sequestrate e poi donate al comune dieci anni fa, di cui non si conosce l'utilizzo? Con Gratteri non ne ho parlato, perché chiaramente lui credeva che abbia già il suo da fare con l'andrangheta, suppongo che non voglia altre cose. Se qualcuno ne ha parlato con il procuratore Grasso non ne ho idea e non posso essere io a rispondere, non lo so. Con Gratteri abbiamo parlato di altre cose, perché credo che lui sia già abbastanza obberato dai suoi doveri. Ecco, però lui la vede la luce. Lui dice sempre una cosa, ci sono loro ma ci siamo anche noi, non scordiamocela mai questa cosa. Certo, gli uni e gli altri. Senti, dopo questa botta di mafia, Alessio, l'estate sta finendo all'Eole o sta iniziando secondo te? Siamo vicini al culmine, siamo vicini al periodo più, la posso dire una cosa, il periodo per me è più insopportabile, perché il periodo in cui la civiltà umana era il peggio di sé, il periodo della folla, degli schiamazzi, dei disagi. Ti dico solamente una cosa, la dico da cittadino semplice, ho ordinato l'acqua minerale al supermercato e mi hanno detto che me la consegnano la settimana prossima. Tutta una serie di disagi per chi vive qui e come me non ha poi un'attività che se ne viene bene dal turismo, insomma, io faccio altro nella vita. È il periodo in cui verrebbe voglia di fuggire, almeno a me. Forse, dico una cosa, mi olieranno in molti per quello che dico, è il periodo in cui le olie sono meno belle. Tu hai questo tuo punto di vista di osservazione, non sei il solo, sei uno dei pochi che ha coraggio di dirlo, di servirlo su un piatto già come antipasto al mattino, ma possono esistere delle olie senza la folla turistica? Io credo di sì, almeno mi pare che in altre parti del mondo funzioni. Io credo che ci siano motivi, modi e mezzi per essere seduttivi tutto l'anno, con proposte diverse, con cose diverse e quindi ripartire questo carico che poi è, secondo me l'isola non è dimensionata per questo carico, né da un punto di vista per esempio idrico, da un punto di vista fognario, da un punto di vista della rete internet, da un punto di vista dell'assistenza sanitaria. Invece di avere 100 mila persone a ferragosto, averne 10 mila ogni mese potrebbe essere un modo per guadagnare tutto l'anno, impazzire di meno e garantire anche una civiltà del turismo. E questo dovrebbe essere il grande salto turistico, giusto? Cosa gli manca? In quale porta gli manca? È l'unica possibilità, perché adesso se tu vai in Slovenia, ne parlavamo di ricordi che dicevamo l'altra volta, tu sei un uomo di mondo come diceva Totò, se vai in Slovenia, fai una vacanza di un mese, adesso con qualche soldo in più, ma comunque con molto meno rispetto a qui. Adesso siamo in concorrenza con il mondo intero. L'unico modo è le persone che vengono in vacanza. Non sempre vogliono la musica assordante, la confusione, il cibo tozzinale e le piagge sporche. Forse vogliono la tranquillità, la pace, la bellezza, il silenzio. Bisognerebbe prepararsi per quel tipo di domanda, non per la domanda becera. E secondo te anche in questo caso c'è una speranza, c'è una luce in fondo al tunnel o il traghetto diciamo da Marinari è già partito. Ma no, non credo, io sono sempre fiducioso, io penso che si possa solo migliorare in certe cose. Qualche segnale c'è, chiaramente dovrebbe essere per prima la classe imprenditoriale eoliana a capire che si può guadagnare in modi diversi e probabilmente si può guadagnare molto di più. Io a chi non crede alle mie parole suggerirei di andare in vacanza in Francia dove se c'è una casa che ha 100 anni c'è il museo, c'è il ristorante, c'è la vendita di souvenir. Valorizzano spietatamente tutto quello che hanno anche quando è molto poco. Noi abbiamo tantissimo, però la nostra proposta turistica è vodka, musica, whisky, non lo so. Quanti acqua minerale. Mi sembra un po' stupido, no? Avendo tutto quello che abbiamo. Certo. Perfetto, non fa una grinzata. Senti, quale delle sette isole ami di più o è quella più vicina al tuo mondo? Guarda, quella che sicuramente amo di più, ma non in agosto, perché anche lì comunque in qualche maniera anche se a temperature più basse si riscalda è Alicudi, perché essendo la più scomoda è quella che è rimasta più vicina alle sue origini. però anche lì ho visto dei segnali, come dire, allarmanti, sono aumentati i prezzi. Prima ad Alicuri andava un certo tipo di turista che era comunque orientato verso la pace e la serenità e la calma. Adesso vedo anche lì arrivare delle persone che francamente... E' arrivato Bosch, il famoso Bosch, lo sai, no? Sulla spiaggia si è costruito il suo piccolo paradiso augurandosi. Rimane l'isola sicuramente a cui sono più affezionato. Certo. Ecco, tu un posto in politica lo hai rifiutato o non ti è stato mai offerto? Perché sei un uomo libero, anche se hai sempre espresso le tue amorate politiche. Ma dove? In quale posto mi è stato offerto? A Lipari, parliamo del comune di Lipari, delle oli, dove vivi? Non mi è stato mai offerto, almeno che non l'abbia capito io, ma insomma ufficialmente, chiaramente non mi è stato mai offerto niente. Un segnale, qualcuno timidamente ti ha preso sotto braccio, mai? No, 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 che io me ne sia accorto o no? Ecco, poi... Certo, magari non hanno avuto il coraggio di chiedertelo perché conoscono bene la tua cultura. Credo che abbiano... ognuno abbia i tuoi... le tue persone di riferimento, è giusto così, io non sento la mancanza di questo apporto. Però anche la cultura, una certa cultura merita un certo posto. Senti, a proposito di cultura, di tutte queste manifestazioni programmate alle ole, qual è secondo te quella più commerciale, quella più costosa e anche in termini di impegno segno fisico e poi quella più bella? Secondo Prakat. Quali devo deludere? Io parlerò solo di quello che faccio io, ma non per pubblicità, ma perché lo conosco e non voglio mancare di altro. E allora dici tutto quello che fai. Ti posso dire che saranno a costo zero per la comunità, perché sono tre persone che sono amici personali e quindi verranno a dormire e mangiare a casa mia, anche perché la mia associazione non ha grandi mezzi, non ci possiamo permettere gli alberghi a cinque stelle. A proposito, cucine tu. Con grande gioia soprattutto di due dei tre che vengono. Verranno Salvo Vitale, l'amico di Peppino Impastato, l'autore di Cento Passi, che ormai è l'ennesima volta che viene qui alle olie ed è un entusiasta della mia cucina, soprattutto la mia cucina di casa. Allora viene per mangiare, viene per mangiare. Viene anche per mangiare, perché è un amico comunque, è un godereccio, è uno a cui piace mangiare, però non mangia pezzi. La cosa assurda è che un siciliano di Partinico non mangia pezzi, quindi a lui devo cucinare carne. E verrà per parlarci della tua personale rilettura del Tiretia, il veggente cieco dell'Olyssea, quello che predice poi a Ulisse il suo destino, no? E ci siamo di mezzo anche noi, perché Tiretia dice a Ulisse, quando vai in Sicilia, che sono i pascoli di Giove, se non toccherai il gregge di Giove, tornerai a Itaca. Quindi questa è la predizione che fa Tiretia. Ma è un personaggio importante, Tiretia… Ma non porterai in Piazza Mazzini davanti al muro del professor Leoni da Bongiano Bonanima che poi hanno spostato? Probabilmente, no, no. Ci vedremo a Centro Sturi il 6 agosto. E sarà un personaggio molto importante. Tiretia è un personaggio molto bizzarro, perché Tiretia è un personaggio del mito greco che per sette anni diventa donna, pensa tu. Poi abbiamo un altro amico della nostra associazione il 13 agosto, e qua abbiamo fatto i salti mortali per averlo a Lipari, che è Mimmo Lucano. Porca! Penso che sia una delle personalità più importanti italiane degli ultimi anni. Certo, ma ultimamente lo hanno trascurato però, mi sbaglio? Lo hanno condannato addirittura. Lo hanno condannato, hai trovato il termine giusto. Ti dico una cosa. Sì. Io ho la massima fiducia in Mimmo Lucano. E in un paese… come l'Italia, dove tutto sappiamo essere perfettamente in regola, dove tutto è svizzero, dove ogni cosa è perfettamente a norma, a Mimmo Lucano è stata imputata la cubatura dei ricoveri per gli asinelli. Delle casette che lui aveva costruito, perché a Riace aveva introdotto il modello della raccolta, della spazzatura con gli asinelli, come un tempo, perché non ci sono le strade delle macchine, che era una cosa secondo me ecologica, impatto zero, eccetera. Tra le cose che gli hanno imputato, gli hanno imputato la cubatura sbagliata. Quindi noi siamo un paese dove la regola è ferre. Certo, mi permetti una battuta? È un Amaro Lucano allora! È un Amaro Lucano. Io ho fatto un articolo per Antimafia 2000 in cui è intitolato Amaro Lucano alla Calabrese. E quindi parleremo della vicenda di Riace, che è una vicenda bellissima come modello e grottesca come inchiesta. Io ti potrei dire, l'ho seguita bene e la conosco bene, tra le cose che gli ha imputato il PM, dei matrimoni tra italiani e extracomunitari. E gli ha chiesto, ma lei si è accertato che ci fosse veramente affetto, amore tra queste persone? Domanda proprio! Non è il mio compito perché faccio il sindaco, non faccio il parroco. Ecco, per dirti come è stata questa inchiesta. Quindi parleremo di questa cosa. Poi il 20 agosto, il terzo appuntamento nostro per quanto ci riguarda Come Città Invisibili, sempre al centro studioliano, avremo un altro amante della mia cucina, che è Amico Dolci, il figlio di Danino Dolci, con cui parleremo del Danino Dolci poeta. È una figura meno nota. Lui è noto come attivista, come pedagogo, come sociologo. Ma il Danino Dolci poeta è altrettanto importante. Ti posso dire che secondo me si trova, si inserisce con piena dignità nella letteratura italiana del Novecento. Quindi sarà una bella scoperta anche questa. Io parlo di queste cose perché le ho fatte io, le ho organizzate io. Delle cose degli altri, per rispetto non parlo. Ne hai parlato in abbondanza che riempiono una cucina, i tuoi pentoloni. Quindi tu cucini e loro vanno al centro studi a parlare. Quando finiscono tu vengono a casa. No, 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 io cucinerò nei giorni precedenti. Ah, non è che vuoi cucinare anche al centro studi e ti mettono una bella cucina, ti attrezzano. Potrebbe essere un'idea. A centro studi c'è un altro amante della mia cucina, che è Nino Paino, che la conosce è la mia cucina. Il piatto preferito dal Presidente Paino qual è? Svele il segreto. No, ma lui è un nivoro. Mangia tutto, lui mangia tutto. Non c'è, ci hanno cose fatte bene. Anche i resti, piatto pulito, tavola rasa. Sì, ci tirano le cose giù, da soddisfazione. Bellissimo. Alessio, fra una cucina e una culturata, esiste la cultura politica oppure esiste solo spesso la cultura per acchiappare la politica? Guarda, la cultura è come il codice penale, è una responsabilità individuale, non è un fatto di settoriale o di classe politica, di genere, di mestiere. La cultura è tutto quello che ognuno porta all'interno di quello che fa. Se uno all'interno di quello che fa porta poco, non si può parlare di cultura. Se porta tanto di quello che ha dentro di te, tutto quello che fa, allora sì. Ma è un fatto personale, non può essere espanso in generale. Un giorno pensi che potrebbe arrivare anche Franceschini alle ole, come era arrivata la Melandria a Filicudi? Siamo qua. Se arriva lo salutiamo. Ecco. Curiosità, questo tuo bel sorrisone, l'evento dei tuoi sogni qual è? Alle ole o in generale? Alle ole. Poi se miri anche a organizzare un evento a Roma, l'Italia, la nazione, te ne sarà grata? L'evento dei miei sogni lo devo ancora organizzare, non lo so. Io penso sempre al prossimo. Io già, queste sono cose che stiamo preparando, ma ti dico che io già sto pensando alle cose che faremo l'anno prossimo. Quindi... E questa è programmazione, sana e pura. E quindi anche la ricetta per cucinare in base agli eventi? Perché tu abbini la cucina in funzione degli eventi o gli eventi in funzione della cucina? No, no, la cucina, perché ripeto, per esempio, a Salvo Vitale non posso fare pesce. È chiaro, è chiaro. Neanche se glielo nasconde impanato se ne accorgerebbe, vero? Però non posso fare neanche l'odore. Ecco, a proposito, tutto ha i suoi tempi, no? Il tempo visto dalla cultura e il tempo visto dalla politica, quanto ne serve poi alla fine? All'uno e all'altro? Il tempo della cultura è sempre un tempo lungo, bisogna investire su cose lunghe, non si può sperare che si modifichino le cose da oggi al domani. Però è un tempo lungo non voluto, cioè è dettato dagli eventi. Il tempo lungo della politica a volte mi sembra voluto, scientemente, speciosamente, per non fare, per dilazionare, per rimandare, per promettere la stessa cosa. Cambialata, una cambialata, un pagherò. Esattamente. Senti, che impressione hai in questi giorni, mentre vedi questi tappeti di barca che riempiono il mare delle olie? Sono i moderni pirati che consumano il territorio? O sono i clienti che tutti aspettano a riva? Ma non lo so quanto spendano queste persone alle olie. Io non credo che contribuiscano molto all'economia. La mia paura è che al tappeto di barche sopra ci sia un tappeto di olio e di immondizia sotto. È quello che sta emergendo. E' quello che sta emergendo anche. Si trascura. Tutti questi motori, le olie sono anche un posto di riserva e riproduzione per il mondo marino. Queste barche e questi motori spaventano gli animali. Gli animali scappano. Quindi non so quanto, quello che è poco che portano come guadagno se basti a compensare il danno che fanno. Francamente non lo so. A proposito di protezione degli animali, anche i fuochi d'artificio partecipano a questa paura. Sia i pesci che gli uccelli, i cani, i gatti e anche le persone anziane. Quella poi, guarda, io non la capisco. È una forma di idiozia non comune. Io inviterei tutti i comitati parrocchiali, i tacerdoti che organizzano le varie peste. Non sono loro che fanno. È la politica che vuole i botti. Chiunque sia, se proprio avete i soldi da sperperare, ci sono un sacco di organizzazioni non profit nel mondo che danno da mangiare e da bere a chi non ha niente. Mandatele lì, almeno vengono spesi bene. Ma i fuochi d'artificio sono solo un fastidio incivile per quanto mi riguarda. Senti, tu hai voglia così di fare una tiratina d'orecchio, un rimprovero al passato politico dell'eoli o anche un complimento? Ma guarda, al passato politico dell'eoli io posso parlare fino da qualche anno fa in poi. Io sono arrivato all'eoli del 2004, quindi non posso parlare per prima perché anche se mi hanno sempre detto molto bene... Ehi, un giovane è arrivato, eh! ...dell'aggiunta a Giacomo Antonio, ma non c'ero quando c'era Giacomo Antonio. Quello che ho visto io sinceramente è molto poco. Dico la verità, dopo. Tirare le orecchie non credo che abbia molto senso. Penso che avrebbe più senso ricordare e riflettere per il futuro. per non commettere gli stessi errori quanto me. Certo. Possiamo dire la cultura nella Pomice, la cultura nel Caolino, la cultura in San Calogero? Quali idee, quale prospettive eventualmente? Perché senza cultura non si riprendono questi temi, secondo noi. Guarda, a me meraviglia per esempio che non ci sia, o ci sia pochissima attenzione. All'Eolie per il vulcanismo, che sono il motivo stesso di esistenza delle isole eolie, no? Non lo so, se io fossi un amministratore di una l'isola delle eolie, la prima cosa che proporrei alle università è tutti i congressi veniti a fare da noi, perché è il posto ideale. Se si potesse fare un corso universitario alle eolie sul vulcanismo... di mineralogia, di vulcanologia, quindi collegamenti con le università, ecco, questa è una cosa che mi viene in mente e si potrebbe fare tutto l'anno, no? Allora, sei d'accordo con l'ex ministro Pecoraro Scania, che vuole creare il parco dei vulcani alle eolie? Questo vediamo. Io quando sento parlare in questo paese di parchi e dico, prima dovrei leggere quello che dice, però sì, in generale è un argomento che mi sembra totalmente dimenticato, totalmente ignorato e farebbe invece una fonte di grande interesse da parte del mondo. A Libari abbiamo un castello. Cosa si deve prendere dalla precedente amministrazione? Cosa invece buttare giù dal castello, visto che ce l'abbiamo sto castello, no? La famosa domanda. Credo che la nuova amministrazione non credo che abbia bisogno di apporti particolari. Io sinceramente nella precedente amministrazione, tutte bravissime persone, ma non ho ricordi particolarmente eclatanti di qualcosa o di qualcuno in particolare che abbia fatto chissà che cosa. Quindi sinceramente cosa prendere non saprei. Senti, siamo alla fine anche di questa puntata. Un saluto e un augurio in stile eoliano prima che te ne vai in cucina. No, oggi non cucino perché non c'è nessuno. Perché non c'è vitale. Perché non c'è salvo vitale. L'augurio è lo stesso dell'altra volta, di passare un'estate il più possibile terrena e di godersela perché se no non ha senso guadagnare se non ti godi la vita. Certo, godereci insomma e con questo augurio Alessio Pracanica ha le parole che suonano con i concetti similpoema, che nascono e vivono conservati senza addittivi chimici e politici, ma soltanto essiccati col fumo dei suoi vulcani perennemente vivi. Con Alessio Pracanica salutiamo gli ascoltatori lettori lettori del notiziario, sparsi in oltre 100 paesi del mondo e il webmaster Massimo Pagliaro. Alessio, buona cucina e se ti serve qualche ingrediente diccelo, va bene? Alla prossima. Grazie.